al grande fratello di Gio Pirlà di Pino Maiuli e questo canto certo tu te le sai oh mamma Nicola scusa se sono entrata ma cosa fai sempre qua in bagno dai vieni di là vieni con noi adesso giochiamo al tabù no no l'ultima volta che ho giocato al tabù il mio amico ha messo in cinta una vieni con noi magari ti passa un po' di più parliamo, mangiamo qualcosa ti confidi un po' con noi dai ma come fai a tenerti tutto dentro scusami guarda c'è una peda a due mesi che ho in bagno siccome non riesci a caricare il miele da nessuna parte dà delle punture forti sulla tenda e vengono fuori sti rumori qua vieni via dal bagno dai no guarda senti ti ringrazio ormai qua c'ho tutto anche la telecamera l'ho coperta con la carta igienica sono tranquillo qua dentro di là in salotto mi dà fastidio mi vedono tutti da casa poi se mi scusi un attimo scusami sto aspettando una chiamata che è molto importante pronto? ma pronto mamma? la mamma! no mi scusi mi scusi stavo aspettando la telefonata di mia mamma sì 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 sono io Nicola Vitiello sì sì? sì no no a Milano no sono i miei che sono di giù Bosco Reale Campania sì sì Napoli bene no la tessera della Lega direi che non è è un regalo male ah date in regalo una borsa da viaggio no no vabbè la ringrazio lo stesso della chiamata non mi interessa non è una cosa nella quale mi identifico eh certo ho capito ah un premio aggiuntivo cioè? no no guardi se le dico che non mi interessa no non è il caso bravo che macchino io? una Polo? eh no non quella normale eh la Lux la migliore con tutti gli optional ho anche l'airbag sì l'airbag solo dal lato mio però ah regalate una Smart? il ad ogni tesserato? il ma per me è un cabun sa fu sa fu ti ho un nome tucce anzi invece di vitiello metta fu magari Sì, sì, sì.